Io sono il signor CanisciuneFS recitava Totò in Totolemoco e tanto intende ribadire la regione Abruzzo in merito alla richiesta di un aiuto in proroga pervenuta dal comune di Roma per quel che riguarda i rifiuti della capitale in tre impianti abruzzesi. Già nelle scorse ore il presidente vicario Giovanni Lolli aveva espresso perplessità e richiesto chiarimenti in merito alla missiva giunta dall'assessore Montanari nella quale, visti i disagi provocati dall'incendio al TMB Salario, Si chiedeva di prorogare per tutto il 2019 la disponibilità ad accogliere, anche se in quota ridotta di si fa perdere solo 70.000 tonnellate rifiuti da Roma Capitale. Stamane nel corso della conferenza stampa per la presentazione del progetto di rifiuti zero IMSS sostenibile che implementerà un sistema virtuoso di smaltimento negli uffici abruzzesi dell'IMS, Mario Mazzocca è tornato sull'argomento ponendo da una parte gli ottimi risultati ottenuti dalla regione negli ultimi anni che l'hanno portata ad aumentare dal 2014 ad oggi del quasi 15% la raccolta differenziata garantendo di fatto totale tranquillità almeno per i prossimi 5 anni. Dall'altra facendo notare che dopo due anni e mezzo dall'insediamento al Campidoglio e della Raggi a Roma la raccolta differenziata è aumentata di scarsi due punti percentuali. Come dire che chi sbaglia in teoria dovrebbe pagare. Il ministro dell'ambiente Costa, non il presidente della Proloco di Roccapi Pirozzi dire che in Roma Capitale non c'è emergenza rifiuti ma solo sofferenza. Io credo che questa cosa noi la dobbiamo capire bene tant'è che il presidente Lolli sta facendo i suoi passi anche dal punto di vista formale e per un rispetto istituzionale che evidentemente alcuni di Roma stentano ancora ad avere nei confronti dell'Abruzzo. I territori che non riescono ad essere efficienti sul sistema gestionale dei rifiuti e quindi sul tema più generale della sostenibilità ambientale e pensano di risolvere un problema strutturale come quello trasferendo la propria spazzatura in altri territori a questo punto debbano, come dire, pagare d'assio e debbano in qualche modo essere coscienti della loro inefficienza e inefficacia per quanto attiene l'azione politica. Queste valutazioni faranno parte del novelo delle considerazioni che poi saranno la base della futura decisione qualunque essa sia da parte della regione Abruzzo.